42 N-E-R-E-S 3 Sei pronta? Non dobbiamo proprio? Tesoro, dopo quello che è successo con il tuo amico io non mi fido più Lei non fa altro che stare addosso a quel telefono, è completamente dipendente Paolo che vuole? Gli mandavo delle foto Non riesco a credere che stiamo apriendo di nuovo un dramma del genere Però adesso voglio vederci che ardo, dobbiamo cercare di capire tutti insieme come sono andate le cose Nessuno ci ha ancora detto niente Quest'anno è uscita una serie molto importante su Netflix che è The Reason Why e parla appunto del bullismo, di quanto sia complicato in realtà vivere il periodo adolescenziale Adesso arriva la vostra webseries Goldfish, quindi marchio totalmente italiano Quanto è importante riuscire a sdoganare totalmente queste tematiche e porre l'attenzione del pubblico su questo tipo di argomento Secondo me è importantissimo perché non bisogna necessariamente demonizzare i social network Cioè i social network possono essere da un lato sicuramente un'arma pericolosa per fare male a qualcuno ma anche a noi stessi dall'altra anche lo strumento per comunicare, parlare dei problemi e quindi trovare modo di arginarli E spesso si dice come si fa a uscire dal tunnel in cui cade la vittima del cyberbullismo Sembra che non ci siano via di uscite, in realtà proprio i social network da cui arriva l'offesa possono diventare uno strumento per trovare appoggio, amicizia, sostegno proprio la comunicazione di questi temi che è in realtà Sicuramente è necessario trovare un equilibrio tra quello che uno non può stare necessariamente proprio tutta la propria vita perché diventa poi veramente un pericolo per la persona ma soprattutto un fatto anche di noi siamo abituati adesso a non preoccuparci più di tanto della nostra privacy mentre invece è qualcosa che avrebbe in un certo senso preservata sotto alcuni aspetti e quindi scegliere con cura quello da esporre agli altri secondo i criteri della propria persona chiaramente e non essere troppo, non legarsi troppo a quello che tutti gli altri fanno nel senso magari spesso delle ragazze dicono, vedono una ragazza pubblicare determinate foto che ne so al mare di qua e di là e dicono anch'io lo devo fare ma la verità è che nessuno ti impone un determinato target che devi seguire quindi ognuno deve fare quello che si sente sicuramente La vostra esperienza personale, sia ovviamente nell'ambito adolescenziale magari come avete vissuto voi l'adolescenza e anche nel vostro rapporto attuale adesso con i social network ha influito in qualche modo sui vostri ruoli quindi in questo caso nel tuo personaggio e nel tuo ruolo da regista e sceneggiatore? Sì, sicuramente io ho preso spunto un po' dalla mia esperienza adolescente anche se ai miei tempi non c'erano ancora i social network i cellulari stavano arrivando e quindi non c'erano queste dinamiche però ho preso uno spunto soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra i ragazzi che comunque restano quelli anche al giorno d'oggi poi ovviamente ho messo anche me stesso nell'uso dei cellulari oggi perché anch'io faccio un uso comunque intenso dei social network e quindi mi rispecchio in questi protagonisti infatti il titolo Goldfish si riferisce al pesce rosso e compare in classe durante la serie che assomiglia un po' a tutti noi oggi che siamo un po' diciamo incastrati in questa boccia di vetro in social network trasparente si, trasparente però è anche un filtro che ci separa un po' dalla realtà in un certo senso per quanto mi riguarda io a differenza dei bambini che nascono negli ultimi 5-10 anni io sono cresciuta, a 13 anni è uscito fuori il fenomeno di Facebook Instagram è una cosa ancora più recente quindi io non sono nata nel mondo chiaramente già sotto il dominio dei social network quindi è una cosa a cui sono arrivata col tempo chiaramente l'uso che si può fare dei social è un po' quello che ne faccio io è un uso spero più o meno equilibrato nel senso mettere un po' della mia vita delle cose magari belle e interessanti che si fanno e poi chiaramente penso anche per Giacomo è un po' ormai un modo per anche affacciarsi al mondo lavorativo nel senso soprattutto per determinati mestieri come può essere quello dell'attore, del regista, del cantante mostrarsi, far vedere quello che uno sa fare insomma questo sicuramente è un aspetto importante dei social oggi è pur vero che però spesso i social si utilizzano anche per crearsi un mondo a parte che poi non è quello della realtà nel senso spesso i ragazzi magari hanno interesse a far vedere determinati aspetti della vita determinate loro foto che però poi non corrispondono alla loro vera vita nel senso creare una nuova dimensione molto più diciamo idealizzata io concludo con una domanda sulla web series sul mondo delle web series in Italia è uno strumento che in effetti adesso si sta sviluppando sempre di più può essere un modo per sdoganare totalmente quelli che sono i canoni ancora molto rigidi della serialità italiana cioè è un modo per potersi esprimere anche con uno stile magari un pochino più internazionale e fare anche in questo caso un trampolino di lancio verso qualcosa di più grande sì perché diciamo che la web series ti permette di sperimentare sia a livello di racconto sia a livello di linguaggio di struttura che puoi dare alla storia e quindi secondo me permette a registi e anche scrittori di provare a raccontare le storie in maniera diversa dai canoni classici come ci è abituato alla televisione e prendendo spunto anche da serie straniere più innovative oppure magari provando anche a innovare a lanciare dei modi nuovi di raccontare perfetto grazie mille grazie tesoro la realtà online è solo uno specchio del mondo in cui viviamo ti hanno fatte bene queste cose puoi mandare a fanculo la tua vita se non sai come fare grazie 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 a tutti.